Con Domenico Penna, imprenditore nel ambito del Tartufo di Pizzo, questa sera abbiamo l'apertura di questo locale, come si prevede questa stagione? Allora, la stagione secondo me è un po' calmina, però noi siamo ottimisti, buongiorno innanzitutto, perché nemmeno salutato, siamo ottimisti, cerchiamo di lavorare con i nostri turisti, magari del territorio, forse... Un turismo sotto casa quest'anno possiamo dirlo? Sì, un turismo sotto casa, però noi siamo ottimisti, come sempre, bisogna ripartire, bisogna essere positivi, dopo quasi 70-80 giorni di chiusura totale, stiamo cercando anche noi, in piazzetta, insomma, come vedi, stiamo sistemando in questi minuti, i tavoli sono distanziati e cerchiamo di portare avanti la nostra passione, come sempre l'abbiamo fatta. Quindi stasera aprite con tutte le normative che... Certo, 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 distanziamento sociale, gel, liquidi, sanificazione sul locale, si entra uno per volta, se devono bere magari il caffè o prendere il cono al banco, quindi con tutte le normative possibili e immaginabili. Sulle altre gelaterie, infatti, che è un pochettino più grande sulla Nazionale, abbiamo messo anche l'astenziometria per quanto riguarda le pedate a terra, quindi stiamo cercando di riaprire in massima sicurezza per dare tranquillità a noi e al cliente che ci viene a trovare. Quindi siamo favorevoli a questa apertura, a questa stagione? Certo, io sono ottimista, da sempre. Questo messaggio ovviamente lo passerò anche ai miei clienti, perché noi, come tu ben sai, abbiamo anche dei ristoranti che gestiamo, non personalmente, ma bensì contotersi. Quindi io sto cercando di passare a tutti i miei clienti e dire, ragazzi, riapriamo perché dobbiamo ripartire, dobbiamo creare indotto, almeno il nostro indotto locale, poi pian pianino negli anni ci riprenderemo. Del calabrese, del turista locale, che quest'anno mi sa che dobbiamo puntare specialmente su quello, essendo che i villaggi turistici ancora sono in forza, se aprire o se non aprire, quindi la persona, il turista tedesco, francese, quest'anno mancherà. Quindi abbiamo un turismo locale, sotto casa, quindi cerchiamo di fare il meglio con i nostri calabresi amati.